Sono molto contenta che questo libro, Orientalia, di Alberto Tosofei e Marco Tagliapietra, sia entrato nella selezione del premio Strega. Veramente volevo presentarlo anch'io, mi hanno battuta sul tempo alcuni amici che hanno ritenuto che questo libro fosse da presentare. Lo penso anch'io perché è tante cose insieme ma non è solo un romanzo storico, non è solo una graphic novel, non è solo delle belle immagini. C'è dentro anche un messaggio che secondo me è molto importante in questo momento nel nostro mondo, un messaggio di tolleranza, un messaggio di amicizia. Parla orientali, si capisce insomma, parla dei turchi, adesso ce li abbiamo vicini ma nello stesso tempo li sentiamo lontani. In fondo a Venezia i turchi ci sono sempre stati, hanno vissuto insieme alla città e questo libro ci racconta leggende, storie vere, inventate ma quasi tutte riconoscibili ci racconta anche la grande tolleranza della Repubblica Veneziana.